Un cordiale saluto a tutti, benvenuti da Stefano Ghettile, maltempo non da tregua. Ha colpito in queste ultime 24 ore ancora una volta soprattutto le regioni del nord, il versante tirrenico del centro, ci sono stati forti problemi, disagi, purtroppo anche alcune vittime, insomma una situazione davvero molto difficile che si protrarrà probabilmente anche per i prossimi giorni perché non arriva una figura di alta pressione in grado di garantirci un po' di stabilità atmosferica e il motore principale continua ad essere un vortice ciclonico che sul nord ovest europeo continua ad inviare masse d'aria piuttosto umida nel letto delle quali viaggiano queste perturbazioni a tratti anche molto intense, perturbazioni che prendono vigore anche a causa del fatto che non abbiamo temperature particolarmente basse, appunto il calore anche dei nostri mari che sono tuttora ancora piuttosto caldi generano questa energia che provocano un'ulteriore recrudescenza di queste perturbazioni, di questo maltempo che si manifesta sotto forma di forti piogge temporali e con tutti gli annessi e connessi a causa dei vari problemi anche a carattere idrogeologico e nei prossimi giorni come dicevo non ci saranno grossi cambiamenti perché dopo una pausa tra diciamo su mercoledì ma già da mercoledì pomeriggio sera il tempo comincerà già a dare segnali di peggioramento a partire dalle regioni di nord ovest, ancora una volta dalla fascia tirrenica del centro, ecco questa nuova perturbazione che porterà di nuovo una fase di maltempo in quel di giovedì, poi venerdì ci sarà di nuovo una leggera e relativa tregua e poi nuova perturbazione tra sabato e domenica, insomma un quadro meteorologico non certo stabile, anzi per certi versi ancora davvero fortemente perturbato, da segnalare che intorno a metà settimana però le temperature dovrebbero cominciare a perdere qualche punticino specialmente da giovedì, poi ovviamente di questo ne riparleremo, è tutto amici, a più tardi!